Di queste nuove tecnologie ogni giorno se ne fa un uso ed un abuso che ci fa diventare dipendenti. Queste le parole con cui l'Inaurso Gucciardino, presidente del Centro Guttuso, ha voluto aprire un discorso in occasione del convegno Etiche Web, tenutosi stamane a Favara presso l'istituto alberghiero Gasper Ambrosini, in via Cechevara. L'evento è inserito all'interno del programma organizzato per la diciottesima edizione del Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta. Presenti per l'occasione, oltre alla direttrice scolastica Milena Siracusa e dal coordinatore Giuseppe Piscopo, anche il professore Francesco Pira, docente universitario perso l'Università degli Studi di Messina, e l'editore Antonio Liotta. Importante, sostiene Francesco Pira, è la sensibilizzazione verso le nuove generazioni nativi digitali riguardo alle potenzialità dei new media, in particolare il web, ma anche i rischi provocati da un uso scorretto di questi mezzi. Oggi noi stiamo facendo un importante passo avanti nel dialogo tra noi che siamo i migranti digitali e i digitali nativi. Sono questi ragazzi che vivono buona parte della loro giornata sul web, che stanno sempre con lo smartphone in mano, che comunicano attraverso nuovi linguaggi e nuove forme straordinarie di comunicazione e di creatività. Le nuove tecnologie oggi, attraverso il cyberbullismo, il sexting, due mali della nostra società, possono rappresentare qualcosa di molto pericoloso. E quindi è bene lanciare gli allarmi ed è bene coinvolgere tutti i genitori, istituzioni e ragionare insieme ai ragazzi della grande autostrada che loro hanno a disposizione con il web, ma è un'autostrada che deve essere percorsa senza correre nessun pericolo. L'editore Antonio Liotta, parlando al riguardo di trasparenza ed etica nel web, afferma che occorre far capire ai più giovani che bisogna fare un uso responsabile del media, sia nelle ricerche delle informazioni non sempre veritiere, sia nella condivisione di informazioni personali nei siti social. E' fondamentale che ci sia sempre una notizia scritta, letta, vista, che rispetti i codici dell'etica e quindi tutti i valori deontologici. E' su questo che si basa la corretta comunicazione. Purtroppo questo oggi non avviene. Nella cosiddetta libertà, per cui sul web, su tutte le forme che noi abbiamo di comunicazione, ognuno pensa di poter scrivere quello che vuole, ma non risponde spesso e volentieri invece ai principi di responsabilità che dovrebbero guidare ogni tipo di azione. Un convegno che ha visto una numerosa partecipazione da parte degli alunni che hanno riempito l'aula magna. Alunni che oggi sono stati incoraggiati a fare un uso responsabile, cosciente e consapevole del web, che oramai fa parte della vita quotidiana di tanti.